Fa 13 il Molfetta, non al totocalcio, ma per i risultati utili di fila collezionati negli ultimi tre mesi. Il bottino della prima della classe, tra l'altro, è sempre di prestigio. Quattro gol rifilati ad un team Ortanova in salute sul sintetico amico del Paolo Poli. Poker di successi consecutivi, più quattro conservato sul corato. I padroni di casa partono con l'acceleratore premuto. Conclusione di Legari, Paralaccetti, Sventola, Mancina, Dillavopa, che si stampa clamorosamente sulla traversa. Non stanno a guardare gli ospiti. Gran giocata di Pelosi, soluzione a giro, ma la palla si perde sul fondo. Non si fida degli avversari alla squadra di Renato Bartoli, che la sblocca al quarto d'ora con Barrasso. Sulla sua botta dalla distanza, il portiere degli Ortesi non riesce ad evitare il peggio. Bianco Rossi scese in campo in tenuta scura, avanti di un gol. Sfrutta l'onda giusta, il Molfetta, lo scatenato, la Vopa crossa, l'arbitro assegna rigore per un tocco proibito in aria. Dal dischetto, Legari trasforma, spiazzando il portiere avversario. Il raddoppio è servito dalla capolista. Non si accontentano i padroni di casa. Zampata di Morra, replica di Laccetti. Poi, poco dopo la mezz'ora, il team Ortanova rischia di andare sotto di tre reti. L'autogol non si concretizza per poco. Il tris dei Molfettesi arriva comunque prima del riposo. Lo realizza con una zampata sui sviluppi di un calcio di punizione. Ventura, 3-0 all'intervallo. Vittoria decisamente ipotecata per la regina dell'aggruppamento, abile a brillare per cinismo negli ultimi 16 metri. La ripresa si apre con una chance per barrasso. Il salvataggio nelle vicinanze della linea di porta gli nega però la gioia dalla doppietta personale. Il poker del Molfetta arriva comunque a metà frazione. C'è spazio sul tabellino dei marcatori, pure per un ostimo Lavopa che fa centro con il piattone dal limite. 4-0 l'ultimo segmento di partita, di conseguenza ha ben poco da raccontare. Sono comunque gli uomini di Bartoli a sfiorare in un paio di circostanze. Il quinto acuto finisce 4-0 al Polo Poli, Molfettesi sempre primi a più 4 sul Corato. Il team Orta Nuova, nonostante la sconfitta, resta perfettamente in corsa per la conquista della salvezza diretta in eccellenza.